Milano città intorno ai 36-37 gradi possibili come temperatura massima. Purtroppo la temperatura percepita potrà anche subire 40 gradi a causa dell'elevato tasso di umidità legato all'afflusso concomitante di correnti di componente meridionale. Sarà una domenica da bollino rosso con AFA anche notturna e Milano soffocata dall'ondata di calore insieme all'intera pianura lombarda. Il resto della regione non sarà da meno a partire da lunedì. Qualche temporale sparso, una breve pregua e poi da metà settimana prossima tornerà l'emergenza. Insomma all'arrivo dell'anticiclone africano ha fatto scoppiare l'estate. Gli anni passati avevamo avuto le prime ondate di caldo già verso la fine del mese di maggio, i primi giorni di giugno. Quindi da questo punto di vista niente di anormale ma sicuramente di fastidioso. Un fastidio che può diventare anche pericoloso per chi è fragile, bambini, anziani, malati ma anche chi è solo ai margini della società, più a rischio di disidratazione, colpi di calore, complicanze. Nella mappa disegnata da Asle, comune di Milano, 90.000 cittadini sono in pericolo, 6.500 di questi sono da considerarsi sorvegliati speciali. La rete di interventi è pronta, numeri verdi, medici di famiglia, ospedali e poi le regole da seguire nel decalo anticaldo da consultare sul web, in farmacie e negli ambulatori. La prima è quella di idratarsi, cioè di bere, vestirsi in modo appropriato, gli abiti chiari, quindi non uscire quando ci sono le ore del soleone, chiudere le imposte al mattino, fare in modo che circoli un po' d'aria, ecco sono regole, sono regole d'oro.